Ma spara! Fatti che assoluto la data! Ma in casa? Ma come ti dice la tua mamma? Oh! Io adesso là dentro! C'è troppo personale nemico in arrivo! Sì! Personale nemico! Sì, aspetta che ti faccio il curriculum! Oh! Mi faccio sinistra! Marco Spezia! Oh! E' un malato! Stasera sei drogato! Marco Spezia! Wow! No! Dove è passato in mezzo? Alle mie alle 12! Due amici stregati! Due amici stregati! Uno ci saluta e ci ringrazia! Buona serata! Ma questo fa un botto di pin davvero! Oh! C'è il camion dentro! Oh! Guarda! L'alleato camion! Spazio! Sta facendo 27-3! Oh! Oh! Marco Spezia! Se ingaggia! Se ingaggia! Ma che c'è? Ma che c'è? Un poco di voltaio! Un poco di voltaio! Grandissima la percussione del camion dei gelati alleato che è andata a prendere il camion dei gelati nemico in fondo alla mappa! C'è proprio un vero e un vento! Oh! C'è un Panzer Tiger su Bravo! Oh! Dove è il M per cappe? Ma come fai a fare tutte le kill? Avro l'ingaggia su un aviatore! A terra! Fuoco! 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 Oh! Grande! Fuoco! 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 Piùlic Aleppo! Mi da avere un movimento! Lo so, lo so lo so! Surantza vai ti copri! Coperi! Copermi! Style! Corri, corri! o è sempre in grado sta bandiera si si spara dall'alto con la calibro 20 da delta vedi guarda la calibro 20 di appoggiare la vita è uno zio attento sto prendendo bravo da mi sparano in 400 almeno devo arretrare ma morite da l'occasione diare vuoi dire rimuovendo il momento ai di coperti copre comunque c'è la mia cosa torniamo dietro da mi spara ma che c'è gente che mi martellava dietro di te si copre mi che mi culo vai avanti c'è i genieri guardati l'ho spurtato madonna cecchino cecchino in alto a destra c'è un genieri in alto a destra una a terra davi cecchini fatele fuori posso fare niente sul posto dovete farlo voi fante sono andando a mano di la tantissimi ce n'è troppo sono senza munizioni sono panze il tiger sono senza colpi mi sparano anche i fanti fatelo saltare doppio colpo anche dei fanti fredda sii si defilano i fanti guarda non vogliamo prendere Sono vicino al PanzerTiger, eh, i punti. Il PanzerTiger mi ha fatto saltare. Abbiamo perso l'obiettivo col top. La contraere, lì, la volevo far saltare. Il PanzerTiger, il PanzerTiger, il PanzerTiger. L'Alleata non è stato in colpa. Ingegneri, guarda quanti sono! Quanto fanno schifo! Guarda, dammi una mano! Dattemmi una mano qua, sponate su posto! Che personale nemico ovunque! Preto. Sto arrivando, Camper. Vai ragazzi, dai! Ancora, fascia destra, Diniere sulla strada! Foco! Diniere sulla strada! 2 è più a destra! Focca! 3 Diniere! 3 Diniere! Fuoco! 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 Questa camista a livello 11, incredibile! Torno al giornamento! Fuoco! Dove te le vuoi? Vieni fuori! Fuoco! 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 Prego! Copritemi a sinistra se ce la fate! Jast, di fronte a te, dietro la roccia, segniere! Avanza, avanza su C, Jast! Prendi C, prendi C! Vinciamo se prendi C! Vabbè, addio! Prendi C! Arrivo, arrivano già, scoprimi! Arrivano da dove sono arrivato io! Spara lì, è con la rosa, spara con la rosa! E' un missile avanzamento! Pronti ad aprire il fuoco! 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 Io sono saltato! Fuoco! C'è un cecchino, te li sto spurtando, Camper! Guardati ce l'hai, fuoco lì dentro! Siamo quanti ammazzati! Guarda Camper!